Dalla ginnastica artistica al nuoto paralimpico con lo sport sempre nel cuore. Domiziana Mecenate, 22 anni, romana, si allena in questi giorni nel centro sportivo della polizia prima di partire per Parigi dove disputerà i 50 d'orso e i 100 stile libero. La sua vita è cambiata il 5 luglio 2021 quando una caduta in allenamento dopo un salto l'ha resa paraplegica. Ha iniziato questa nuova avventura del nuoto e in realtà ne sono più che entusiasta, non pensavo in così poco tempo di riuscire ad arrivare a questi livelli, quindi sono molto soddisfatta. Sono molto soddisfatti di me e anche di tutti gli allenatori che avevo prima ginnastica perché comunque l'atleta che sono adesso è la stessa. La passione per lo sport di Domiziana è nata proprio guardando in tv a soli sei anni le Olimpiadi di Pechino 2008. Sì, sì, è bellissimo, non vedo l'ora di essere lì. Mi fa anche tanta impressione che ci stanno alcuni atleti che hanno partecipato effettivamente a Pechino 2008 come il nostro capitano della nazionale e pensare che io ero così piccola, approcciavo allo sport in quel momento e che adesso invece sono anch'io a questi livelli mi rendo veramente molto orgogliosa. Io vado lì puntando a vincere una medaglia, non si sa perché può succedere sempre di tutto, ci siamo impegnati molto e lo spero tanto. Intenso il rapporto con la sua città, Roma. Ovviamente ha tanti problemi dal punto di vista di accessibilità, alcuni risolvibili, altri no ovviamente. Però penso che debbano cercare di avere un occhio di riguardo per queste cose perché è un tesoro Roma e tutti dovrebbero avere il diritto di poterla vedere.